Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo della nuova Topo Mountain Racer 3, una nuova rivisitazione della classica Mountain Racer di cui siamo abituati, di casa Topo, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recessione completa. Iniziamo come solito da qualche caratteristica di questa Mountain Racer 3. Per quanto riguarda la suola troviamo una Vibram Mega Grip No Light Base No Traction Lug con un'altezza di 6 mm il tassello. Inter suola in Zip Foam con un drop di 5 mm, il tutto per un peso di 289 grammi nella taglia 42 uomo. Adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Mountain Racer 3. Come vi dicevo una Vibram Mega Grip con un tassello da 6 mm. Questo vuol dire che abbiamo una suola che tiene praticamente ovunque. Tiene bene sul fango perché comunque ha dei bei tasselli distanziati che vanno a mandare via bene il fango, soprattutto belli alti da dare un'ottima presa. E poi la mescola Mega Grip, questa tiene praticamente ovunque, dalle rocce asciutte, bagnate, umide. Davvero, è una suola che praticamente tiene quasi ovunque. Quindi sicuramente una suola promossa, approvata, con un'ottima durabilità perché io ci ho fatto un bel po' di chilometri ed è ancora praticamente nuova. E poi mi piace che la suola corre ad attacco a punta perché così non abbiamo problemi di intersuola esposto. Quindi per quanto riguarda la suola, brava topo, questa suola mi è piaciuta veramente tanto. Continuiamo, intersuola in materiale Zip Foam. Questo Zip Foam praticamente è un'intersuola a doppia densità. È un'intersuola che mi è piaciuto perché ha quel ottimo bilanciamento tra reattività e ammortizzazione. Soprattutto la reattività, davvero ci si può correre anche ad alti ritmi, io ci ho corso a 4,30 al chilometro e si viaggia molto molto bene. Per quanto riguarda invece l'amortizzazione, questo intersuola è stato aumentato di 3 mm sia sull'avampiede sia sul tallone rispetto alla versione 2. Quindi abbiamo un pochino più di ammortizzazione, però questo è ottimo e non è a scapito della stabilità, secondo me. E infine questo intersuola fa sì che la scarpa sia molto flessibile, si possa adattare bene al terreno e quindi riusciamo ad avere un'ottima percezione di dove abbiamo i piedi. Non è presente un rock plate nella parte inferiore, quindi se camminiamo sulle rocce appuntite lo sentiamo tutto sulla pianta del piede. Passiamo alla tomaia iniziando dal puntale, qui troviamo un puntale abbastanza rigido, roba che se ci prendete dentro in qualche sasso radice non sentirete male, non vi farete male. Per quanto riguarda la tomaia è stata cambiata rispetto alla versione 2, questa è molto più traspirante. Io l'ho trovata veramente estremamente traspirante, per intenderci se la bagnante si asciuga veramente in pochi minuti, quindi tomaia veramente molto molto traspirante. Mi ha convinto un pochino meno la durabilità, perché correndo già anche su roccia vi assicuro che ho qualche buchino piccolino per il momento per quanto riguarda la tomaia. Mi piacerebbe sapere poi da voi se è stato un caso sulla mia modello che si è un attimo forata, o anche voi avete trovato che la tomaia è un pochino sottile e un pochino poco duratura. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi continuiamo, poi la tomaia mi piace perché corre da punta a tacco, quindi una tomaia che davvero traspira molto molto bene. E visto che ne parlavamo, tallone, tallone abbastanza riprogettato, ridisegnato, un tallone che mi è piaciuto, molto confortevole, che avvolge molto molto bene il piede. Soprattutto un tallone che insieme all'intersuola fa sì che questa scarpa sia veramente super stabile. Vi assicuro, correndoci tra rocce, in mezzo a sfasciume, d'alta quota, correndo ovunque, praticamente non ho avuto problemi distorte. Veramente una scarpa molto molto stabile da questo punto di vista. E sul tallone troviamo anche l'inserto per andare ad aggiungere la ghetta che volendo si può comprare sul sito di Top Athletic. Per quanto riguarda invece la parte superiore dell'imbottitura, troviamo un'imbottitura abbastanza minimalista. Mi immaginavo qualcosina di più. È comunque un'imbottitura che si sente e svolge ottimamente il proprio lavoro, però come dicevo è abbastanza ridotta. Davvero, mi immaginavo qualcosa di più. Parlando invece di linguette e lacci, beh, qua nulla da dire, è una linguetta molto classica. Lacci molto classici. I lacci una volta stretti fan sì che si abbia comunque un'ottima fasciatura del piede. Il piede all'interno non si muove, quindi devo dire comunque un comparto lacci e linguetta abbastanza classico. Per quanto riguarda la soletta, questa è di casa Ortholite. Io con le solette Ortholite mi ci trovo sempre bene, confermo che anche su questa mi sono trovato bene. È estraibile, ma io andrei avanti tranquillamente a utilizzarla. Per quanto riguarda la calzata, beh, qui abbiamo un toy box abbastanza ampio. Sicuramente pensato per quelle persone che hanno un avampiede bello ampio. Questo va un pochino a scapito della precisione. Per cui avere un avampiede così alto tende a far sì che la scarpa sia un po' imprecisa. Se non avete un avampiede ampio, il mio consiglio è di prendere mezzo numero in meno. In quel caso lì andrete a ridurre un pochino lo spazio e non avrete problemi di precisione della scarpa. Su che terreno vi consiglio di utilizzare queste Mountain Racer 3? Come vi dicevo, tutti i terreni, davvero. È perfetta dalle strade di fondo valle ai sentieri d'alta quota. E a questo proposito io ve la consiglio per delle gare di quelle che magari partono a mille metri di quota, arrivano anche a 3.000. Quelle gare che sono molto lunghe, anche 150 km con tantissimo dislivello. Gare in cui davvero il terreno può cambiare ogni 10 km. Veramente, secondo me, questa può essere definita abbastanza una scarpa a tutto fare. E perché persone la consiglio? Perché tipo di atleta, secondo me, è un po' tutti. Alla fine il peso ci sta, sono su 290 grammi. Può essere utilizzata sia da una persona che ha le prime armi, che magari cammina tanto, sia a chi invece ha magari una buona tecnica di corsa, corre veloce e gli piace avere una scarpa bella reattiva. Quindi, sì, secondo me questa è una scarpa che può andar bene un po' per chiunque. Detto ciò, arriviamo alle conclusioni. Prezzo. Viene venduta online a 170 euro. Ve la consiglio? Assolutamente sì. Secondo me questa è una delle scarpe che si candida a essere la migliore di questo 2023. Voglio sapere da voi se l'avete utilizzata, se avete riscontrato problemi sulla tomaia. Perché, come dicevo, a me in una si è un pochino bucata, l'altra è ancora perfetta. Quindi non vorrei che sia solo un problema della mia. Però, vi assicuro, è veramente una super, super scarpa. E detto ciao, ragazzi. Mi ha speranza se è stato esauramente esaustivo. Vi ringrazio per aver guardato anche questa recensione. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!